Come sempre, prima di un nuovo argomento vi introduco la componente storica, i temi e il periodo che dobbiamo affrontare. Allora, ho intitolato questo piccolo video La Belle Epoque, in realtà avrei potuto scrivere introduzione storica al periodo che congiunge La Belle Epoque e ci fa arrivare fino allo scopo della Prima Guerra Mondiale. Allora, devo raccontarvi un po' qualcosa per provare a restituirvi quell'atmosfera ricca, gioiosa, piena di stimoli di quegli anni. Stiamo parlando degli ultimi decenni dell'Ottocento, appunto, fino all'esplosione della Prima Guerra Mondiale. Che cosa succede? Innanzitutto dobbiamo immaginarci, a livello storico e a livello sociale, i grandi mutamenti portati in particolare dalla seconda rivoluzione industriale, che ormai si era diffusa, in particolare in Inghilterra, anche in Francia, in Italia eravamo un po' in ritardo. Ma cos'era successo nel frattempo? Parlando dell'Italia, appunto, si era arrivati alla creazione dello Stato nazionale italiano nel 1861, mentre in Germania si era arrivati appunto alla creazione del secondo Reich nel 1871. Ha questa apparente stabilità politica che si vedeva nei vari Stati europei, ecco, diciamo che questa apparente stabilità era forse di facciata, perché c'era questo benessere economico di questa economia capitalista che si era allargata, inglobando settori sempre più vasti, che coinvolgevano quindi la media e la piccola borghesia, e c'era un po' la sensazione di vivere in quello che oggi potremmo definire il migliore dei mondi possibili. Ovviamente si lega a questo anche la filosofia positivista, no? Questa idea di progresso, di migliore dei mondi, di avanzamento continuo, permesso anche dalla scienza, dalle innovazioni tecnologiche e ve ne parlerò a breve di queste novità. Pensate che appunto le capitali europee, io qui ho messo delle immagini tratte da opere di Henri de Toulouse-Lautrec, un post impressionista meraviglioso che ha vissuto in quegli anni, ecco, le capitali francesi e tedesche, ma non solo, le capitali europee, avevano conosciuto un momento di grande cambiamento, in particolare si erano riempite di queste luci e di mondanità. Io vi parlavo già nel video relativo alla nascita dell'impressionismo, alla scoperta della vita notturna, la luce che permetteva la creazione di questi locali in cui potersi svagare anche in ore serali. A Parigi c'erano ad esempio questi Café Chantant, c'era il Moulin Rouge, che tutti voi conoscete e di cui avete sentito parlare, che avete magari anche visitato a Parigi, ma era anche il momento in cui, sempre nelle capitali europee, erano sorti i primi grandi, importanti teatri dell'opera. Quello che vi mostro è quello dell'Opera di Vienna, inaugurato nel 1869, ma ce n'era un altro ad esempio importante anche a Dresda. Poi ancora, in quegli stessi anni, c'erano state delle grandi modifiche a livello urbanistico delle grandi capitali europee, in particolare, questa siamo sempre a Parigi, Hossmann era stato l'artefice di questo grande cambiamento, con questi grandi vialoni, ampi, che in qualche modo restituivano un'idea di città molto diversa rispetto a quella dei vicoli medievali di un tempo. Ecco, ha questo ottimismo positivista, appunto permesso da questo progresso scientifico e tecnologico, che vedremo davvero così importante, diciamo che si associava anche a una sorta di benessere propagandato, come se fosse appunto il frutto di una pubblicità, talvolta anche tramite davvero la stampa, la grafica pubblicitaria, che volevano parlare di questa società, con questo benessere condiviso e allargato, ma noi sappiamo invece che la società era sempre più classista. In quegli anni, quindi io vi sto parlando di un'epoca, la Belle Epoque, che davvero è contraddittoria, perché se da un lato vedremo veramente questa esplosione, la tecnologia, le innovazioni tecniche, che permetteranno di allargare in modo esponenziale, mi sento di dire, le possibilità offerte all'uomo e la sensazione che l'uomo abbia il controllo, possa avere il controllo su tutto, ecco, d'altra parte si associa a questa sensazione positiva un contraltare, quello davvero di una società che non rispecchiava questa idea di benessere. Tra l'altro, le frasi che sto per dirvi, raccontandovi di questi decenni, dei primi anni dell'ottocento, primi anni del novecento, potrebbero sembrarvi veramente una descrizione dell'oggi. È curioso come talvolta, questo ciclo della storia, gli elementi che spesso si assomigliano. Vi stavo dicendo, quindi una società classista, pensate appunto anche, fate il pagone con l'oggi, con dei grandi capitali economici in mano a poche persone, la borghesia in realtà si accontentava in parte delle briciole e in particolare il proletariato viveva in condizioni precarie e disagiate. Vi ho mostrato in precedenza il quarto stato di Pellizia da Volpedo in cui questo proletariato avanzava richiedendo appunto che i suoi diritti fossero considerati e effettivamente in quegli anni i sindacati e i partiti operai avevano condotto delle battaglie per ottenere delle riduzioni di orario, perché l'orario di lavoro spesso per chi lavorava appunto in fabbrica a questi operai era terribile, e per ottenere anche degli aumenti salariali, perché nonostante orari massacranti il salario era insufficiente per garantire non soltanto la dignità umana ma addirittura il mantenimento della persona o della famiglia. E quindi questo ovviamente sfociava in un profondissimo malessere sociale, in questa sperequazione ancora molto grande tra chi deteneva il potere politico ed economico e chi invece, la grande maggioranza delle persone, invece aveva veramente pochissimo. Questo è un altro punto che potremmo tenerci in mente come momento di grande modernità e che ritroviamo anche oggi, perché i governi europei da quel momento in poi saranno fortemente influenzati dai gruppi industriali, la potenza economica forse per la prima volta fa davvero il suo ingresso per influire sulla politica internazionale. E questo oggi è ancora attualissimo, verissimo, quanto, pensate alla guerra dei Dazi o quanto talvolta gli accordi internazionali tra potenze economiche modificano, delineano una nuova visione della politica. internazionale. C'era veramente bisogno in quell'epoca di una maggiore democratizzazione della politica, un coinvolgimento nel governo di rappresentanze di partiti popolari che però ancora erano lontani dalla rivale. Allora, c'è anche da dire che un altro aspetto, non vi ho messo l'immagine adeguata, ma insomma cercate di capirmi lo stesso, un altro aspetto di questo periodo era legato, certo, all'espansionismo industriale, ma il contraltare era anche la colonizzazione. In particolare c'erano i paesi che come l'Italia colonizzavano poco ed erano quindi tagliati fuori dai mercati internazionali perché dovevano comprare le materie prime da importare mentre gli altri paesi europei che avevano colonizzato i paesi africani avevano a disposizione delle materie prime a un costo bassissimo che poi potevano davvero rivendere. Quindi davvero capite che di nuovo la politica e l'economia sono profondamente collegati. Ora, questo conflitto di interessi, il conflitto di interessi anglo-tedesco per il crescente imperialismo del secondo Reich, ma anche il contrasto austro-russo con la Russia che temeva di perdere la supremazia nell'area balcanica, o la contrapposizione franco-tedesca per la mai accettata vittoria prussiana del 1870. Ecco, tutti questi ingredienti che vi ho veramente elencato in modo piuttosto grossolano porteranno a quella che poi sarà lo scopo, l'esplosione della prima guerra mondiale con 10 milioni di morti, davvero qualcosa di drammatico, la grande guerra. E la conseguenza ulteriore sarà la frantumazione degli imperi tedesco, austriaco e russo e la creazione di nuovi equilibri nell'Europa del Novecento, così come appunto prima non era stato neanche pensabile. Allora, questa introduzione storica però voglio, come dire, arricchirvela, intanto perché ve l'ho proposta, perché io vi ho dovuto porre le basi, le premesse di questo momento di grande fermento, ma di grande conflitto sotterraneo, come dire, di questo malessere sociale che sta emergendo. È la base che ci servirà per affrontare ciò che faranno gli artisti subito dopo. in particolare vi parlerò tra poco di William Morris e della sua esigenza di creare, di portare il senso della bellezza all'interno della produzione industriale. Quindi questa base storico-scientifica era fondamentale. Ma torno un attimo allora a parlarvi delle novità di quel periodo. Lo faccio mostrandovi in questo caso un'immagine molto bella che ci presenta all'interno del Crystal Palace. il primo, cioè questo palazzo di ferro e vetro realizzato da questo Joseph Paxton, questo ingegnere, questo costruttore di serre, per ospitare la prima esposizione universale di Londra del 1851. In questa esposizione venivano mostrati gli oggetti più preziosi e raffinati, quelli appunto di questa grande elite, anzi piccola elite di personaggi che potevano permetterselo, ma anche tantissimi oggetti di produzione industriale, spesso di scarsa rilevanza. Il fenomeno delle expo attraverserà quindi la storia, andrà in avanti, qui vi sto mostrando la locandina molto bella dell'esposizione universale di Parigi del 1889, quella che avrà come simbolo proprio la Tour Eiffel, un altro ingegnere, eccetera, eccetera, ne parleremo. Ma allora, questi anni, mi dicevo, erano anni di grande fermento perché davvero era accaduto un po' di tutto. Dovrei farvi un capitolo a parte relativo appunto all'architettura del ferro e del vetro, in risposta a questi cambiamenti sociali, l'arte che comincia a impiegare dei materiali che rispondono non, partono non da una scelta di tipo estetico, ma da una scelta di tipo statico-costruttivo, di funzionalità. L'uso di questo ferro in realtà non era il ferro, ma era delle ghise, era una ghisa, quindi una lega molto resistente, ecco, permetterà di ottenere delle strutture che resistevano ad esempio all'altezza della Torre Efebbi, ve lo anticipo qui, poi ve ne parlerò in un altro momento, era stata determinata sulla base di calcoli matematici, non certamente sulla base di una curva, no, di queste linee curve che potevano essere legate all'idea della torre, ma era l'idea della possibile resistenza agli sforzi del vento nelle condizioni più estreme ed erano calcoli corretti, visto che la Torre Efebbi è ancora assolutamente in piedi. Ma vi voglio raccontare adesso, fare una breve carrellata di quelle che secondo me sono state tra le invenzioni più importanti degli ultimi anni dell'Ottocento, dei primissimi anni del Novecento che hanno cambiato la nostra storia, la nostra società. Pensate come noi vivremmo senza oggi, senza queste novità proposte. Parto, ho cercato di metterle in ordine più o meno cronologico, parto proponendovi la pastorizzazione, appunto proposta da Pasteur, appunto cui si deve il nome, 1862, in cosa consiste? In sostanza la possibilità di eliminare i germi dagli alimenti, permettere quindi una lunga conservazione e quindi l'idea di eliminare, di permettere la produzione di alimenti che con una durata maggiore nel tempo, quindi una maggiore offerta per la salute ovviamente, ma anche una maggiore offerta ovviamente di cibo che può essere messo sul mercato in modo più duraturo, come dire. Poi, non sono esperta di queste novità, ve ne accorgerete, ma mi piaceva se non altro elencarvele, magari sono anche possibili collegamenti con tutte le altre materie. Vi voglio ovviamente parlare dell'introduzione del telefono, invenzione che viene attribuita a Graham Bell nel 1876, ma c'erano stati i precedenti tentativi di questo teletrofono di Meucci, l'italiano Meucci, 1871. Immaginatevi, la nostra vita oggi senza telefono forse sarebbe veramente la possibilità di comunicare a distanza era veramente qualcosa di significativo, ma ancora altrettanto importante la lampadina elettrica inventata da Edison nel 1879, pensate davvero la nostra, l'elettricità che cambiamento ha determinato. E ancora, sempre di pastore, in questo caso il vaccino contro la rabbia, ma ci saranno anche i vaccini contro la tubercolosi, ad esempio, pensate quanto è attuale oggi l'idea del vaccino, ecco, malattie che sono scomparse, sono scomparse perché appunto personaggi come appunto il chimico Pasteur avevano avuto il coraggio di sperimentare e ovviamente hanno portato a debellare delle malattie che noi oggi neanche più conosciamo o le sentiamo come fossero davvero qualcosa di antiquato. Quindi davvero anche qui un passo in avanti enorme per quanto riguarda la salute. E poi ancora, 1885, Chicago, Home Insurance Building, il primo grattacielo, è considerato questo il primo grattacielo della storia, cioè l'idea appunto di un'architettura totalmente moderna, totalmente nuova, totalmente diversa rispetto a quella che si era praticata fino a pochi decenni prima, davvero, pensate alla modernità, al cambiamento. Questi, no, in inglese si chiamano skyscraper, questi edifici che fanno solletico al cielo perché si innalzano sfidando invece la statica, il verticalismo ma ormai in modo totalmente laico, dimentichiamoci delle cattedrali gotiche che abbiamo studiato. E poi ancora, Berliner, 1887, l'invenzione del grammofono, l'idea di registrare musica su un supporto che può rimanere nel tempo e che può essere quindi suonato indifferita. pensate, anche noi ormai viviamo assolutamente, certo i supporti sono cambiati ma l'idea di portare la musica non soltanto per un'esecuzione live, dal vivo ma anche su una registrazione davvero ha portato grandissimi cambiamenti, ha permesso anche una modifica sociale importante, vivere la musica in privato nelle abitazioni o per feste al di là della presenza di musicisti dal vivo. E ancora, vi sembrerà curiosa ma questa è la prima automobile di Carl Benz 1885 ancora tre ruote vi fa sorridere ma davvero pensate come l'invenzione dell'automobile sia stata fondamentale per la storia del Novecento e ancora altrettanto importante l'invenzione del cinematografo dei fratelli Lumière 1892 uno dei primi cortometraggi forse il primo cortometraggio era questo l'arrivo del treno alla stazione di La Ciottà 1896 si racconta che il pubblico all'arrivo di questo treno con questi binari in prospettiva il treno che arrivava dal fondo e veniva in avanti verso il pubblico si racconta che il pubblico fosse fuggito in sala spaventato dalla verosimiglianza di questo treno che si vedeva al cinema in movimento così come si vedeva nella realtà e quindi se nella realtà stando davanti al treno si rischiava di essere travolti la stessa cosa sarebbe avvenuta per gli spettatori del cinema è una storia che si racconta non sappiamo quanto effettivamente fosse vero ma insomma l'idea è quella di una grande novità qui si aprirebbe un'altra questione puramente storico-artistica visiva ma vado avanti ancora il telegrafo senza fili Guglielmo Marconi 1896 la possibilità di comunicare con dei codici al di là appunto della presenza di fili immaginate quante volte avete visto nei film novecenteschi in bianco e nero l'arrivo di messaggi in codice ecco tutto questo permesso da lui ancora lui sarà l'inventore della radio 1899 davvero anche questo ha veramente modificato tantissimo pensate anche al ruolo della radio nelle guerre quindi davvero importantissimo e poi ancora il primo volo Fratelli Bright 1903 un primo aeroplano che ci fa sorridere anche questo per la sua forma ma immaginatevi l'idea di coprire le distanze di sfidare ciò che a Leonardo da Vinci non era riuscito il volo l'uomo che può volare sfidare le distanze con un'apparecchiatura tecnica che permetteva davvero di immaginarsi di poter conquistare il cielo davvero qualcosa di incredibile stessi anni 1900 circa la creazione della catena di montaggio Frederick Taylor l'idea della produzione in serie ognuno che fa un piccolo gesto che può portare alla produzione di un oggetto finito per l'ottimizzazione dei costi vedete che in questo caso in questa fotografia ci sono anche tantissime donne perché nelle fabbriche lavoreranno anche le donne e quindi questo è un altro grande cambiamento sociale ma poi questi anni porteranno anche a queste grandi novità porteranno anche alla cosiddetta scoperta del tempo libero fino a questo momento l'idea di tempo libero non esisteva e dal tempo libero nasceranno anche la prima idea di turismo il primo turismo era ad esempio di turismo balneare come questa locandina che ho trovato nei primi anni del novecento o termale è curioso leggere veramente l'adidascalia stabilimento berbani in mare ampia piattaforma numerose camerini a mare baracche sulla spiaggia nuovo stabilimento per bagni caldi freddi e temperati di acqua dolce e salsa per docciatura forme diverse per la cura medica arenazioni assistenza sanitaria sale elegantissime per ballo lettura conversazioni concerti ristorante caffè eccetera eccetera quindi davvero è la novità tra l'altro vi segnalo che da questi anni dai primi anni del novecento con questa invenzione del turismo balneare nascerà scoppierà la moda della bronzatura femminile prima dei primi anni del novecento l'idea della pelle chiara era rappresentativa di una nobiltà di stirpe come dire non soltanto d'animo e quindi invece nei primi anni del novecento scoppia questa idea della moda della bronzatura questo è molto curioso ancora negli stessi anni allora c'è anche si assiste alla nascita dello sport sport legato al tempo libero ed ecco che ad Atene nel 1896 vengono organizzate le prime olimpiadi moderne davvero pensate quanto anche lo sport gioca un ruolo importante nella nostra vita ecco vedete che un po' le premesse di tutto quello che è il nostro modo di vivere davvero si ritrovano qui concludo questa carrellata mostrandovi la nave Titanic di cui conoscete l'avventura e le disavventure perché voi sapete che era considerata era gigantesca ed era considerata la nave più sicura del mondo ma voi sapete anche che era salpata nell'aprile del 1912 dall'Inghilterra in direzione di New York ma dopo 14 giorni di navigazione era aveva colpito un iceberg ed era fondata portando appresso portandosi appresso veramente l'idea di un mondo forse il naufragio del Titanic Titanic bisognerebbe dire ma io dico all'italiano Titanic è stato visto da molti come una specie di grande prefigurazione di una società che stava veramente affondando perché c'era appunto una nave gigantesca con delle sale piene di colonne d'oriche di specchi di saune di bagni di sale da ballo ovviamente per la prima classe ma c'erano poi invece le classi più basse che ospitavano in condizioni davvero molto peggiori tutti gli altri quindi davvero è una perfetta rappresentazione di quella che era la società di quegli anni allora tutte queste informazioni che vi ho dato davvero sono la premessa al prossimo passo che noi faremo cioè capire come l'arte si pone davanti a queste grandi novità grazie a tutti